Sport e mobilità elettrica, un connubio perfetto. Autoropa, del gruppo Ecoliri, è scesa in campo al Benito Stirpe di Frosinone per presentare la prima ID3, la rivoluzionaria auto ad alimentazione elettrica di Volkswagen. A testare le sue performance in strada i calciatori del Frosinone Calcio, una berlina compatta, totalmente elettrica e dal notevole spazio interno. Con ID nasce proprio il nuovo progetto Volkswagen, quindi con la ID3 per poi arrivare alla ID4 e poi per arrivare a un prodotto full electric su cui stiamo puntando molto. La Volkswagen non tralascia le sue tecnologie all'avanguardia dei suoi sistemi di infotainment, i suoi sistemi di sicurezza. Dall'aspetto estetico sembra una Golf ma all'interno è un vero e proprio SUV, ha degli spazi veramente importanti che si apprezzano provandola e guidandola. L'elettrica tedesca è stata provata dal neoattaccante Giollo Azzurro Enrico Brignola. Vedendola da fuori sembrava magari un po' piccolina, invece dentro è molto comoda, molto larga. I spazi sono adeguati alle tue aspettative? Esatto, si, si guida veramente bene. E invece portare un elettrico totalmente silenzioso? E' un po' diverso dalla normalità nostra, dalle macchine che guidiamo, però molto bella, un po' teso all'inizio, però è molto emozionante. La nuova generazione di auto della casa detesca è adatta a tutti. La nuova tecnologia Volkswagen permette di ricaricare queste vetture sia a casa, sia presso le colonnine, con una ricarica veloce o anche lenta. Permette di percorrere dai 400 chilometri di autonomia, per quella base, fino ad arrivare ai 530 chilometri di autonomia. E' una vettura che davvero vi invito a scoprire nelle nostre concessionarie di Latina, in via Vespucci e di San Giorgio all'Iri, in provincia di Frosinone, in via Osonia. Grazie.